ah no ma come le andi li ha passeggiato? ma quando anni viene? non ti ricorda? erano 93 anni ora eh 95 ma che? 96 93 ah loro avevano 93 eh mica sono scema ah lei era brutto ah no hanno votato come ti ti fai invece almeno la montagna il mio nonno non è 93 si mangavano due anni e tra madaluno eh dove la madaluno ha prescortato il servizio ma è pure anche questa no mamma eh si mette su il ciotto non c'è due anni non c'è due anni 23 anni eh due anni si sta accanto a una wedding questa quando è stata a fernù vediamoci la città quando è stata a fernù l'anno è stata a fernù eh quando è stata a fernù once one and you have了 one and two todas is with no two and wess ah it's one and you have a breath no ah 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 la sanda erano finalmente i discolati erano non si ovvero l'ha Cheese ma non si vede anche il mycelente che vanno a scuola come e vedeva dicendo come se nessero ne vedeva che i biscotti erano il cafettino dell'acciaio la scuola come se non vanno a scuola Cosa? Non mi dispiace tanto. Ma che è successo da zero... ... ma non è mai nulla. Non c'è nessuno, ma non c'è nessuno che stai lì. 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 Chi è il primo? Proccio? Dai. Ciao!